Ok, sono dal... dal lavoro, sono dal lavoro Sono dal lavoro, sono dal lavoro, sono dal lavoro o OS9 e io non voglio mettere l'OS9 sul mio computer sicuramente hanno un'epidemia io ho cercato di chiamare il supporto, il supporto ma sono in California ovviamente, quindi nessuno è qui io sono in linea per downloadare il driver guarda che si può accionare quando? non sapevo che Doraima era gay quando ho abito la box ho scoperto e c'è un floppy disk oh no this is really old ok, i spaccato Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Poi do this for Rob, put it aside. Put it aside. Probabilmente che non draw. Cresce, somebody cresce. Yeah, when I went to the HAL concert, uh, concert, HAL conference, God, what is wrong with me? Um, they had the new one out there. Uh, 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 Sì. 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 Ah, guarda lì Doraemon. Guarda l'immondizia come se ne frega. Aha! Ecco perché non riuscivo più a cedere. Si era bloccato.